Sono appunto lo Stefano Trapanese dell'associazione Noi per Salerno, associazione nata proprio da poco. Io dico a tutti che mette veramente un minuto per un saluttore. Assolutamente, e tutto buongiorno a tutti. Stefano Trapanese di Noi per Salerno è un'associazione nata recentissimamente, poco più di mese fa. Veloce perché ho visto, e qualcosa mi rincuora particolarmente, che sul manifesto che teniamo appeso alla nostra tavola, ci sono innumerevole associazioni. Questo mi rincuora perché mi fa pensare a quel senso di comunità, cioè a quale si parlavano canzi, un po' tutti hanno fatto questo riferimento. La nostra associazione in particolare risponde sempre positivamente, e questo è lo scopo per il quale è nata, risponde positivamente a questi input. Noi crediamo che sia fondamentale in questo momento, dove c'è un leggero scollamento nella nostra società, lo stiamo vedendo un po' anche da questa ondata un po' giustizialista, invece anche nella nostra città rispetto alle scelte politiche che sono state fatte. Anzi, non a scopo che noi in particolare lasciamo per questo motivo, ossia svegliare un po' le coscienze rispetto alla trasformazione urbanistica. Comunque, parlando a queste cose che non hanno niente a che vedere con questa bellissima manifestazione, noi come l'universaletto saremo venerdì presenti a ovviamente questo evento, con il nostro corpo, quindi con il nostro sangue, e mi piace ricordare uno scotto che poco ha a che vedere con il sangue, che però ultimamente recitava che un'allevante in particolare fa bene qui e fa bene qui alla mente e dal cuore, è proprio il caso di fare questa associazione con la donazione del sangue, perché non solo va bene al proprio cuore, perché il dottor Anna Rumba ci ha ricordato quanto sia importante anche per la nostra stessa salute, ma soprattutto diamo un contenuto a queste nostre vite, ossia riusciamo a essere effettivamente utili per la società. Vi ringrazio, già confermo da adesso Luigi che saremo presenti ogni anno a questa manifestazione. Grazie. Grazie, a te stesso.